Siano rogati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la preoccupazione che oggi ci viene trasmessa da un punto di vista di obiettivo pedagogico da produrre, la parte di San Paolo che si rivolge ai Corinzi, è la consapevolezza che tutte le cose buone, belle e vere vengono da Dio. San Paolo ci tiene a far capire che non è frutto del suo ingegno, non è frutto della sua retorica, non è frutto della sua cultura il poter trasmettere la novità del Vangelo, il poter trasmettere quei valori che poi dovranno condurre la comunità cristiana e quindi modello di tutte le altre comunità cristiane in quanto essa primitiva. Ma è la grazia di Dio che ispira. Naturalmente la grazia di Dio non deve incoraggiare un certo fatalismo da parte nostra, che sarebbe poi una sorta di pigrizia spirituale, giustificherebbe il disimpegno, secondo quel famoso adagio, tanto Dio ci pensa. Ma noi uomini oggi, fin troppo spesso, confidiamo troppo in noi stessi. «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo», dice la Sagra Scrittura. Sono parole profetiche, ma questo profetismo diventa attualità incarnata oggi, in un'epoca nella quale si cerca a tutti i costi, anche di fronte a quelli che sono i cataclismi naturali, una colpevolezza umana, come se l'uomo, naturalmente coscienza del creato, fosse però anche la causa prima e la causa ultima nello stesso tempo di tutto ciò che accade. Non è possibile questo, perché le cose create hanno una loro autonomia, hanno una loro evoluzione, hanno una loro involuzione e di conseguenza ci sono dei fenomeni che l'uomo non può controllare. Ma c'è un qualcosa che l'uomo può propiziare e questo attraverso il buon esempio e la preghiera è il cambiamento di ciò che è all'interno del uomo, il cambiamento di quelle che sono le sue disposizioni nei confronti di Dio, il cambiamento e la trasformazione di quella che è la sua lettura della storia. Quello sì, noi lo possiamo fare. Ecco perché Gesù stesso, inaugurando la sua attività pubblica, in ricordo di quanto da adolescente anche fece, entrando nel consorzio dei giovani adulti, fece, attraverso la lettura del libro del profeta Isaia, cade su quel passo dove lo Spirito del Signore indica una contiguità addirittura, più che una semplice prossimità con Lui. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Questa unzione che ci viene partecipata con il Santo Battesimo, confermata con la Cresima e poi nel Sagramento del Servizio alla Comunità, che è il Ministero sacerdotale, ancora elargita in abbondanza. Ma l'unzione significa impregnazione, come l'olio che penetra, come l'olio che sana, guarisce, le aridità della pelle, le scottature un po' del sole, come per me, è necessario, così allo stesso modo noi dobbiamo lasciarci impregnare dal Signore, dobbiamo assorbire il Signore, attraverso anche un processo lento, alle volte di conversione, ma costante ed efficace. E questo lasciarsi trasformare dal Signore, questo assorbire il Signore nella nostra vita, mette poi al bando quella che è la preoccupazione primordiale di San Paolo, come dicevo, cioè attribuire a se stessi dei meriti, delle capacità e quindi abbandonarsi a Dio, abbandonarsi con tutta la propria creatività, con tutta la propria volontà, con tutta la propria intelligenza, ricondurre a Lui l'origine di ogni bene, ma poi agire come se tutto dipendesse da noi, questa è la cosa bella del Cristianissimo, cioè avere una fede come se tutto dipendesse da Dio, ed è così in buona sostanza, ma poi avere un'intraprendenza come se tutto dipendesse da noi, e questo crea quell'osmosi, quella armonia, quella simbiosi tra la grazia divina, soprannaturale, e lo sforzo umano, naturale. Chiediamo allora al Signore di abbandonarci a Lui, di affidarci a Lui. Il Vangelo di oggi si conclude con un riferimento chiaro ai benefici di Dio a favore di persone insospettate, insospettabili, come meriti, o come meritevoli, nel ricevere il suo soccorso. La vedova di Sarepta, Naman il Siro, la prima ricevette dal profeta Elia, la grazia di essere risparmiata dalla Caristia, il secondo al tempo del profeta Eliseo, la guarigione dalla lebra. Allora noi lasciamoci guarire abbandonandoci al Signore da quella Caristia di Eucaristia. Il nostro mondo oggi vive questa Caristia, ma non perché non c'è l'Eucaristia, ma perché gli uomini sembrano voler fare a meno di questo pane del cielo. E poi chiediamo al Signore anche di guarire dalla lebra. La lebra, biblicamente parlando, è il peccato. La lebra è accostata come segno alla peccaminosità che investe l'anima naturalmente. Quindi possa il Signore attraverso il nostro abbandono a Lui, alla Sua volontà, ma soprattutto alla Sua grazia, guarirci. da questa lebra e da questa Caristia e darci in abbondanza i Suoi doni, pane eucaristico e la vita di comunione con Lui attraverso quella immacolatezza che noi acquistiamo grazie al Sacramento cosiddetto dei morti, proprio perché eravamo morti quando lo riceviamo, ma una volta ricevuto siamo vivi che è la Santa Confessione. Siamo lodati Gesù e Mariana. Grazie a tutti.